Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, nei pressi del Ponte di Pietra, alle mie spalle la struttura del Gambero. Già ristorante, sala ricevimenti, una struttura meravigliosa in una location fantastica e quando uno vede certe cose, vede il degrado in cui si trova attualmente la struttura, uno pensa, ma Dio molte volte dà il pane a chi non ha i denti, proprio perché è inaudito che una realtà del genere debba vivere, debba permanere nel degrado. Io non entro nel merito delle vicende giudiziarie, sono state tantissime, sta di fatto che questa struttura appartiene all'amministrazione comunale. Poi nel 2015 è stata chiusa, nel 2016 è stata devastata da vandali che hanno distrutto la struttura, hanno portato via il suppellettili e quant'altro ivi contenuto. Poi c'è stata una giudicazione ad un atti, credo per la realizzazione di un centro di ricerca scientifico, ma non entro nel merito. Dico soltanto che è assurdo che una struttura del genere debba rimanere nel degrado assoluto. Non mi interessano le vicende giudiziarie, la proprietà è dell'amministrazione comunale e credo che un ente civico dovrebbe valorizzare le proprie risorse. Ma immaginate com'è possibile che in questa città, che è una città malata, questa è la verità, Taranto è una città malata sotto vari aspetti, impossibile che da un punto di vista imprenditoriale non si scommetta su questa realtà in altre città d'Italia, ma senza andare lontano, anche a Bari e Lecce. Ma io penso che i vari imprenditori avrebbero fatto a botte tra loro, in senso metaforico, per aggiudicarsi una realtà del genere, per valorizzarla, per fare una sala ricevimenti di altissimo pregio e altissimo profilo. E già per il sol fatto di sedersi e vedere un panorama del genere, già bisognerebbe pagare una maggiorazione nell'ambito di quando si consuma il pranzo o la cena. Sono avvilito, ripeto, non entro nel merito delle vicende giudiziarie, però sta di fatto, parlano i fatti, io sono un pragmatico e i fatti dicono che questa è la realtà di Taranto, caso unico in tutta Italia, così come alle spalle di questa struttura vi stiamo mostrando il degrado, la schifezza, il cumulo di rifiuti che si è stratificato nei mesi e negli anni. Io dico che chi è preposto deve intervenire alla rimozione di questi rifiuti, sia il comune, sia l'atti, non lo so se il comune, se spetta al comune o all'atti che si è aggiudicata la struttura, non entro nel merito, ma quella situazione deve essere rimossa. Questa è Taranto, mi duole il cuore. Vedo e lo ripeterò fino alla noia, fino alla nausea, una realtà del genere, un ponte meraviglioso, un mare meraviglioso e uno schifo si fatto, che piaccia o no, questa è Taranto. Io non le mando a dire le cose, le dico, questa è Taranto e provatemi a smentirmi, provate a dimostrarmi il contrario. Grazie a tutti.